Siamo arrivati alla stazione Ora farò un break e ora si riparte Siamo arrivati dietro di noi la stazione di Misore che piccola non è E' gigante ragazzi, è gigante Stop al bagno e ci muoviamo verso la casa del nostro nuovo host Si nota il cambio, è davvero più India mi sa Questo è il negozio che mi ha salvato la cintura Ce l'ho nuova Save my belt We can go, thank you so much Thank you, thank you, bye bye Non si è finito di andare in giro, è troppo umano Siamo al mercato di Misore Questo è il mercato della frutta Tommaso, Elisa Profumo di cilantro Profumo di cilantro, è vero E' vero E' vero Sì E' vero E' vero E' vero No fight, no fight, no fight, no fight, no fight, no fight, yeah, India is best, yeah, only these are flowers, they do this for hair and then they transform into this thing Qua per le donne durante i matrimoni. Vengono attaccate dietro una perna, questo è un lavoro con pazienza. Vigate uno a uno, per favore c'è dietro. Guardate le prese con le foto e tutti impazziscono. No famiglia. Modell, Bollywood, we go to Bollywood. Bollywood. Our shop is very old shop in this market. And this is our family. And this all my friends from different country. Because my uncle he teach about Essentia. And you see I am here. You are here. Seven years before. Mysore is famous for jasmine. Appena aperto. Just so you open the smell come out. In this there is no alcohol. Essentia natural. Essentia natural. It's good for perfume for your body. And you can mix with coconut oil. You can take massage for your body. Dammit a mano. Powerful. Wow. Yes. Because this is oil. Essentia natural. Alla fine Elisa si è comprata un sacco di robe in questo negozietto. Siamo sempre al mercato di Mysore. Stiamo visitando Mysore. E niente, continueremo il nostro giro dopo questa sosta di profumi. Non be x2 Che ho aspettato. Bello, bello. Ecco niente, bello. Un account. E' il ragazzo tra le rose. Oh. Yeah. No? E' come bene. E' come bene. E' come bene. E' come bene, e' come bene. E' come bene. Ok, io sto a Davide di fare una foto mentre il ragazzo prepara gli incensi perché lui fa gli incensi a mano. Questo è il negozio. Shanti shanti. Shanti shanti. Why rush? Buongiorno. 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 speciale. Es masafiore, an Baslia. ed è tipo una pasta. Sì. mmmm il personaggio il personaggio si ti piace questo? è rullo è rullo si tu la città qui un po' di powder vai vai David tu sei buono per ciapatti I open a restaurant, no tight, no tight, no you hold it, I hold it, but not tighter, ah ok. Continua il nostro giro nella zona del mercato, qui ci sono un sacco di gioielleria, per la situazione Donia Coe, bassa maneria, il mio, il mio, il mio preferito di Elisa. E' il risultato ragazzi, cosa fa questa cosa Eili? Riapri gli occhi. Ok siamo fuori dal mercato, ma andiamo in un altro mercato, che mercato andiamo? In zona tessuti e in zona sedi. Stiamo a scegliere, che ce n'è veramente di tutti i colori, di tutti i tipi. Elisa sta impazzendo. Sto cercando di mantenere la calma, perché qua è facile. In questo negozio si capisce quanta gente c'è, per le scarpe che ci sono fuori. Andiamo a cercare un posto per ammangiare qualcosa. Siamo in questo posto di Cino, che fanno cucina dell'India del Sud. E chi è che sta già mangiando, è goloso, neanche mi pare di dire. Bello ciapati, bello caldo. C'è altro nel viso di Andolo. Questo è un sunbar e questo è il ciapati. La felicità di Elisa? No. E non perdiamo tempo, il pranzo l'abbiamo fatto veloce. Inizia a pecchiare il sole. Passiamo a chiudere la via principale e iniziamo a muoverci verso di là. È piena di rotonde a Mysore. Ci hanno sperato che sono le piazze in realtà. Però le piazze a Mysore non sono a forma vadata, ma sono a forma vadata. Sono rotatorie. Ci siamo fermati in questo chioschino e fanno la soda, la fanno sia con lo zucchero e con il masala. E io ho preso la soda col masala. Buona. Buona. Very nice. Ci muoviamo verso un centro commerciale, perché abbiamo un puntello oggi alle 6, con altri ragazzi e andiamo a vedere un film al cinema. Canale A Grazie a tutti. Grazie a tutti.